La Victor San Marino apre il nuovo anno con una vittoria di misura sul campo del fanfulla, restando in scia la capolista Ravenna nel girone D di Serie D. A decidere il match è stata la rete di Onofri al sedicesimo del primo tempo, che calcia in rete di destro dopo un colpo di testa di De Keiroz sugli sviluppi di una punizione di Sabba. Nel primo tempo la Victor va vicina al raddoppio prima con il tiro di Lattarulo, che finisce alto di poco, e poi con l'incrocio dei pali pieno colto da Arlotti. Il fanfulla cambia decisamente marcia nella ripresa, al settimo ci prova Spera che impegna Pazzini in due tempi. Al diciassettesimo proteste per un contatto tra Onofri e Premoli non ravvisato col rigore tra le proteste dei padroni di casa, mentre poco dopo su un altro corner il fanfulla riesce a pareggiare, ma il gol non viene convalidato poiché la sfera era precedentemente uscita. Il forcing dei padroni di casa non porta al pareggio e la Victor coglie dunque i tre punti in attesa della sfida casalinga contro la Pistoiese di domenica prossima ad Acquaviva.